e anche lo sanno. Allora, con la lezione di oggi andiamo a completare quello che appunto è l'argomento delle misure nel dominio della frequenza, in particolare andando a studiare questa volta i metodi basati su strumenti digitali, quindi in particolare metodi basati sull'analisi FFT. In particolare, come abbiamo anche fatto nel caso degli strumenti, diciamo, tra virgolette analogici, diciamo così che l'idea è quella prima di presentare il principio di misura e poi provare a implementare lo schema a blocchi, mano a mano complicandolo, diciamo, fino ad arrivare a più o meno ad uno schema a blocchi finale che potrebbe essere quello dello strumento. E al solito facciamo un attimo qualche richiamo sul concetto di Fast Fourier Transform in modo tale da riallinearci anche sulla base, diciamo, delle conoscenze che magari già avete dell'argomento, pregresse per, diciamo, altri corsi, e in modo tale da, appunto, arrivare poi a comprendere tutti gli aspetti di una misura in frequenza basata su FFT. Analyzer. Allora, ovviamente ripartiamo al solito dalla formula della trasformata di Fourier, di un segnale X di T, quindi nel dominio continuo, dalla quale cominciamo a vedere, o meglio a notare, che per ottenere lo spettro del segnale sarebbe necessario, in generale, un periodo di osservazione infinito, no? Perché l'integrale si estende da meno infinito a più infinito. Ovviamente in tal modo si otterrebbe uno spettro continuo, valutato con una risoluzione infinitesima, quindi ottima per le applicazioni, però, tutto sommato, noi sappiamo, ormai abbiamo capito, che non possiamo contare su un numero infinito di campioni, anzi, il schema del campionamento e la conversione logico-digitale cercano proprio di, diciamo, in qualche modo limitare il numero di campioni che devono essere contenuti all'interno di una memoria, e questo corrisponde anche a, sostanzialmente, indicare che il tempo di osservazione su cui noi andiamo poi a valutare, nel caso specifico, lo spettro, sarà un tempo di osservazione non infinito. E, pertanto, lo strumento matematico che ci consente poi di calcolare lo spettro del segnale passa attraverso quella che si chiama DFT, ovvero discrete Fourier transform, la cui formuletta è riportata in questa slide e che sicuramente già conoscete anche da altri corsi. La conseguenza, ovviamente, del fatto di non avere un tempo di osservazione infinito è innanzitutto legata alla risoluzione in frequenza che si riuscirà a garantire, che a quel punto non sarà infinitesima, ma assumerà un valore finito, ma che, se è sufficientemente piccolo, questo valore può consentire comunque di ottenere delle misure accurate nel dominio della frequenza, che poi, vi ricordo, come al solito, significa innanzitutto valutare ampiezza e collocazione in frequenza delle singole componenti spettrali di un segnale. Ricordiamoci, oppure, anche altri concetti che ci torneranno utili e richiameremo spesso, diciamo, nel corso di questa lezione, e cioè che data F con S, la frequenza di campionamento del segnale, e N, il numero di punti su cui si calcola l'FFT, che corrisponde anche al numero di punti acquisiti, avete, ovviamente, che nel dominio del tempo i campioni saranno cadenzati, saranno spaziati da un periodo di campionamento, appunto, che è l'inverso di quella frequenza F con S che abbiamo detto. Per quanto riguarda, diciamo, quello che accade nel dominio della frequenza, una volta applicata, diciamo, appunto, la DFT, i campioni dello spettro saranno distanzati dalla quantità F con S su N. Quindi, fondamentalmente, per effetto del campionamento, diciamo, otteniamo una cadenza di pari a 1 su FS, nel dominio del tempo. Quando poi appliciamo la formuletta, che significa il calcolo dello spettro, nel dominio numerico, che significa sostanzialmente campionare lo spettro del segnale in corrispondenza di alcuni punti, che vengono anche chiamati BIN in frequenza, questi punti sullo spettro disterranno di una quantità che è FS diviso N, che rappresenta quindi proprio la risoluzione in frequenza, diciamo, della BFT, in pratica. Poi, l'FFT, ovviamente, è un algoritmo, diciamo, particolarmente efficiente, che consente poi di, appunto, calcolare lo spettro nel mondo numerico, nel dominio numerico, attraverso, appunto, un algoritmo a farfalla, di cui forse, probabilmente, avreste anche, diciamo, già sentito parlare in altri corsi. Ma comunque è un modo per calcolare lo spettro particolarmente efficiente e quindi che può essere, diciamo, facilmente, diciamo, implementato anche su piattaforme a basso costo e quindi, diciamo, in generale, anche caratterizzate da hardware non particolarmente performante, se consideriamo l'hardware, diciamo, dei sistemi attuali. Detto questo, approviamo a questo punto a impostare un, diciamo, un primo schema blocchi che io chiamo preliminare, proprio perché, diciamo, non è ancora quello definitivo e che, diciamo, verrà poi utilizzato alla fine, no? Lo costruiamo un pochettino per passi, proprio per cercare di capire poi i singoli blocchi a cosa servono. Allora, sicuramente, diciamo, già da questo schema blocchi si intuisce, senza andare subito nel dettaglio, diciamo, dei singoli blocchi in cui andremo fra poco, che, appunto, il principio di funzionamento di un sistema, di uno strumento di misura del genere, ovviamente, si baserà innanzitutto sulla conversione logico-digitale, quindi sul campionamento e la quantizzazione e codifica dei campioni in ingresso, del segnale in ingresso, dopodiché, diciamo, tralasciando un attimo alcuni blocchi intermedi, il calcolo dell'FFT attraverso, appunto, un opportuno algoritmo che opererà sulla sequenza di punti che sono stati, diciamo, appunto, memorizzati, acquisiti da qualche parte. Da un punto di vista, invece, implementativo, lo strumento prevede, innanzitutto, una prima sezione analogica che, diciamo, è di fatto un blocco di condizionamento in cui andremo a approfondire fra poco, diciamo, le necessità. Poi, un convertitore, appunto, ADC che lavora ad una frequenza di campionamento, diciamo, chiamiamola ADS, F con S, scusatemi, e poi, diciamo, i campioni vengono memorizzati all'interno di un'area di memoria, diciamo, tipicamente, un buffer circolare, poi successivamente richiedono di un'operazione di cosiddetta finestratura, oppure windowing in inglese, e infine, dopo il calcolo dell'FFT, il segnale viene visualizzato sul display. Ovviamente, tutta questa parte qui, che, diciamo, è racchiusa da questa cornice verde, è una cosiddetta sezione digitale, perché, ovviamente, opera sui campioni, quindi già acquisiti e provenienti dal convertitore analogico digitale. Andiamo, diciamo, a questo punto a studiare, innanzitutto, il blocco di condizionamento. Qual è lo scopo di questo blocco? Quello di trattare il segnale ancora analogico in modo che lo stadio successivo lavori nelle condizioni ottimali. Ma ora che, diciamo, abbiamo studiato qualche tezione fa che cos'è la conversione analogico digitale, ricordiamoci che, appunto, è costituita da, può essere vista come la sequenza di due operazioni, il campionamento e la quantizzazione. E entrambe le operazioni, abbiamo visto quando abbiamo studiato la conversione a D, che, diciamo, richiedono un po' di attenzione per cercare di fare in modo che queste operazioni vengano, diciamo, svolte al meglio. E al meglio poi significa, ovviamente, da un punto di vista misuristico, cercare di garantire delle misure quanto più affidabili possibile, e quindi, per esempio, nel caso del campionamento, cercare di evitare che si abbia aliasing, che abbiamo visto essere una delle cause che può, diciamo, portare a alterare i risultati di misura poiché di fatto introdurrebbe sui segnali, sui campioni acquisiti, o meglio, sul segnale acquisito, e in particolare sul suo spettro, delle componenti, diciamo, fantasma. Quindi sicuramente delle distorsioni che andrebbero a poi pesare anche sul risultato di una qualsiasi misura fatta sul segnale, sia nel domenio del tempo che nel domenio della frequenza. E quindi sicuramente mi aspetto all'interno di questo blocco di condizionamento la presenza di un filtro passo a basso, diciamo, ovviamente, di tipo analogico, anti-aliasing, opportunamente dimensionato, e poi all'interno del blocco di ADC, ovviamente, sappiamo che c'è il quantizzatore, che, diciamo, è un altro elemento critico della conversione analogico-digitale, perché per quello che abbiamo visto nelle precedenti lezioni, è fondamentale che, diciamo, al fine di minimizzare, come dire, l'effetto del rumore di quantizzazione, che può essere visto come un rumore, scusatemi, l'errore di quantizzazione che può essere visto come un rumore additivo, fondamentalmente è necessario cercare di sfruttare al meglio tutti i livelli del quantizzatore, quindi, in pratica, cercare di lavorare quanto più vicino possibile al fondo scala, ovviamente non oltrepassandolo, ma cercando di sfruttare al meglio tutti i livelli, in modo tale da garantirci una risoluzione in ampiezza, diciamo, ottimale rispetto a quello che dobbiamo misurare, e allo stesso tempo minimizzare l'effetto, diciamo, dovuto al rumore di quantizzazione. Ovviamente, per quanto riguarda la parte di campionamento, molto rapidamente abbiamo detto c'è bisogno di un filtro passo a basso anti-aliasing opportunamente dimensionato, il che significa che se io diciamo, indico con FS la frequenza di campionamento, appunto, il filtro dovrà avere una frequenza diciamo di taglio e soprattutto anche una frequenza in corrispondenza della quale posso ritenere sufficientemente attenuato il segnale pari a Fmax uguale a FS mezzi. Ovviamente, nel caso in cui non dovessi garantire perlomeno questa condizione e quindi dovessi trovarmi nella condizione in cui FS mezzi è minore di Fmax, diciamo, ovviamente, potrei incorrere nella condizione di aliasing che abbiamo già ovviamente studiato molto nel dettaglio in passato e quindi, diciamo così, ci vado più velocemente. Per quanto riguarda la quantizzazione, abbiamo detto che dobbiamo effettuare appunto questo adattamento dell'ampezza dei campioni da convertire in modo da sfruttare al meglio la dinamica del quantizzatore e quindi gli eventuali fondoscala positivi e negativi del quantizzatore e, diciamo, ricordiamoci pure che l'errore di quantizzazione come abbiamo già accennato in una precedente lezione può essere modellato con un rumore additivo con valore efficace in pratica dato da delta diviso radice di 12 dove praticamente delta, vi ricordo, era la risoluzione del convertitore e quindi data da VFS diviso 2 alla n-1 se il convertitore è bipolare quindi se è in grado di convertire segnali sia positivi che negativi quindi, diciamo, è un parametro delta direttamente collegato al VFS ma anche al numero di bit e di conseguenza poiché il rumore di quantizzazione ha un valore efficace che a sua volta è dipendente da delta capiamo bene che diciamo dobbiamo cercare di sfruttare quanto più possibile bene i fondoscala del convertitore per cercare di ridurre questa diciamo questa componente che come detto ripeto diciamo dipende dalla risoluzione quindi dal numeratore in pratica una volta fissato il numero di bit quindi dal numeratore significa dal fondo scala e quindi diciamo dobbiamo cercare di scegliere sostanzialmente il fondo scala in modo tale da minimizzare questa risoluzione o viceversa diciamo cercare di amplificare il segnale in ingresso laddove è necessario per fare in modo da farlo avvicinare in quanto più possibile al fondo scala un po' come ragionamento ovviamente abbiamo fatto anche quando per esempio avete studiato lo oscilloscopio numerico per chi ha avuto la possibilità di venire in laboratorio e di cominciare a fare la prima esercitazione sullo oscilloscopio numerico ha visto proprio questo approccio che abbiamo anche nell'effettuare la visualizzazione e la misura di alcuni parametri per cercare di portare come dire la grandezza da misurare ad occupare quante più divisioni possibili sullo schermo in modo tale da diciamo migliorare in relativo sostanzialmente le incertezze le acciurasi e quant'altro ovviamente professore mi scusi scusi il disturbo però non si sente bene non so se è solo il mio problema anche degli altri però la sento gracchiare non lo so guarda non so se gli altri mi danno un feedback dello stesso tipo no io la sento bene ok allora sarà un mio problema spero risolverò grazie mille no gli altri come sentono scusatemi facciamo una statistica ok va bene allora bene bene ok mi dispiace per il vostro collega fortunatamente registrando le lezioni magari diciamo si riesce comunque a recuperare anche questo tipo di problema allora scusatemi andiamo quindi andiamo avanti a questo punto quindi per la quantizzazione abbiamo detto per ottimizzare l'operazione di quantizzazione dobbiamo sostanzialmente poiché non possiamo agire direttamente sul VFS quello che possiamo fare è quello di cercare di attenuare o amplificare il segnale in modo ottimale rispetto alla dinamica del quantizzatore che abbiamo detto in qualche modo è fissa allora quindi si opera sul segnale diciamo sull'ampiezza del segnale e ovviamente però facendo attenzione che come accade in molti altri strumenti di misura in alcuni casi la componente continua aggiuntiva al segnale che poi di fatto rappresenta una componente che va a spiazzare il segnale verso l'alto verso il basso e che va quindi a sovrapporsi ad una componente alternata potrebbe in alcuni casi essere diciamo significativa e quindi dare fastidio proprio in questo ragionamento di ottimizzazione del fondoscala del quantizzatore come vedremo fra poco con qualche esempio e quindi sicuramente mi aspetto che nel blocco di condizionamento ci possa essere per esempio un condensatore di blocco come accade nello stadio di ingresso dell'oscilloscopio digitale che consenta di eliminare la componente dc in particolare analizziamo prima il problema di cercare di diciamo sfruttare al meglio la dinamica del quantizzatore quindi il problema di attenuare o amplificare a seconda dei casi il segnale in ingresso per sfruttare al meglio il fondoscala cosa significa questo significa che io cosa posso trovarmi proprio come caso pratico da un lato potrei avere un segnale per esempio caratterizzato da questo andamento e da queste ampiezze che in ingresso rispetto al fondoscala diciamo di fatto va a sollecitare solo i primi livelli di restituzione dell'AD quindi non va diciamo a fondo scala proprio perché è un segnale magari debole allora proprio perché diciamo io ho bisogno di cercare di sfruttare quanto più possibile questo fondo scala in questo caso ovviamente il segnale dovrà essere amplificato in modo tale da portarlo diciamo a essere quasi prossimo al fondo scala viceversa in una situazione in cui il segnale di ingresso assume ampiezze che superano il fondo scala del convertitore AD mi trovano nella situazione opposta cioè quella di quella di prima si chiamava underloading quella di diciamo che sto spiegando adesso si chiama anche overloading e quindi una condizione che ovviamente assolutamente anche questa deve evitare perché che cosa farebbe farebbe cimare sostanzialmente il segnale cioè nel senso che magari lo strumento non si danneggia ovviamente entro certi limiti quindi se si supera di poco il valore di fondo scala però quello che accade è che i campioni che io andrò ad acquisire di fatto diventeranno campioni tutti ad ampiezza costante e pari al valore di fondo scala positivo in queste condizioni e pari al valore di fondo scala negativo quando la sinusoide per esempio supera negativamente il fondo scala negativo quindi fondamentalmente il segnale diventerebbe una sorta di onda quadra o quasi o perlomeno trapezoidale perché se andasse a congiungere pure magari linearmente i campioni che ne otterrei otterrei una cosa che più o meno fa così come sto facendo io adesso con il cursore quindi sicuramente avrei una distorsione del segnale quindi tutto ciò che ne conseguirebbe da un punto di vista di visualizzazione misura e quant'altro sarebbe tutto sbagliato quindi devo evitare queste saturazioni e per evitarle devo quindi riportare l'ampiezza del segnale all'interno dei due fondo scala come si fa questo ovviamente attraverso una attenuazione e quindi all'interno del blocco di condizionamento devo immaginare di avere a disposizione non solo un amplificatore per risolvere il problema dell'underloading ma anche di un attenuatore per risolvere il problema dell'overloading ora invece andiamo a vedere quell'altro problema che dicevamo cioè la possibilità che in ingresso ci sia una componente continua significativa sovrapposta al segnale quando dico significativa significa che appunto ha un'entità tale da per esempio portare il segnale quasi prossimo al fondo scala se consideriamo una VDC positiva quindi quasi prossimo al fondo scala positivo però di fatto magari in una situazione in cui la parte alternata diciamo occupa comunque poche divisioni del diciamo o meglio pochi livelli di restituzione del quantizzatore no per cui che cosa succede stiamo sfruttando malissimo tutta questa dinamica perché tutta questa dinamica è sfruttata semplicemente per un segnale continuo di cui magari non abbiamo nemmeno bisogno di avere informazioni perché spesso poi ovviamente nel dominio della frequenza quello a cui si è interessati è tutta la parte diciamo così inalternata e allora a questo punto per cercare di diciamo ottenere un miglioramento da questo punto di vista e quindi migliorare la capacità di analisi della sola componente alternata del segnale quindi capacità di discriminazione diciamo in ampiezza delle quindi di risoluzione in ampiezza del convertitore e quindi dello strumento quello che dobbiamo cercare di fare è eliminare la componente continua e quindi analogamente a quanto visto con l'oscilloscopio digitale utilizzare per esempio un condensatore serie che diciamo elimini la componente dc in modo tale da far sì che poi non essendoci più la componente dc il segnale viene innanzitutto traslato in corrispondenza dello zero e quindi avrà valore medio nullo e a quel punto poi posso agire se necessario con l'amplificatore per cercare al solito ancora una volta di sfruttare al meglio tutti i livelli di quantizzazione quindi fondamentalmente diciamo volendo andare a capire da che cosa è costituito il blocco di condizionamento possiamo immaginare a tre sezioni una sezione di accoppiamento appunto dove io seleziono ac o dc a seconda dei casi come accoppiamento una sezione di amplificazione o attenuazione e poi infine un filtro anti-aliasing analogico ovviamente passo a basso che diciamo mi limita il segnale ad fs mezzi circa ok posso andare avanti sì sì professore ok ok grazie allora a questo punto andiamo avanti nello schema dopo che abbiamo convertito il segnale in digitale vedete il prossimo elemento è una memoria che di fatto è un elemento un record anche chiamato record di acquisizione comunque diciamo immaginatelo come un vettore un array in maniera molto semplice in cui verranno memorizzati gli n punti che verranno utilizzati poi per tutte le successive elaborazioni solitamente si tratta di un buffer circolare quindi diciamo di un buffer che diciamo è gestito in modalità first in first out e che quindi diciamo una volta riempito va a viene diciamo utilizzato per prelevare i campioni memorizza scusatemi contiene i campioni su cui effettuare tutte le operazioni successive e poi diciamo nel momento in cui queste operazioni sono completate si riempirà ovviamente con un nuovo set di n campioni diciamo sovrascrivendo quelli precedenti che nel frattempo però sono stati già appunto acquisiti visualizzati quindi già è stato calcolato l'ospetto tenete presente che diciamo spesso questi buffer sono un po' sovradimensionati poi rispetto alle dimensioni del diciamo dell'FFT cioè cosa voglio dire che qui per semplicità è stato indicato che per esempio un buffer di n campioni ed n è anche il numero di punti su cui si fa l'FFT in realtà molto spesso questo buffer ha una dimensione che è diverse volte n perché diciamo l'operazione di FFT e tutto quello che viene dopo non è detto che avvenga entro il tempo di campionamento che ovviamente rappresenta anche la velocità con cui si riempie il buffer no perché il buffer verrà riempito ogni volta diciamo di un elemento con passo pari al diciamo ad ogni passo di campionamento ad ogni istante di campionamento per cui in una situazione del genere se tutto quello che diciamo viene dopo viene eseguito in un tempo di elaborazione che è inferiore al passo di campionamento allora ovviamente non c'è perdita di dati ma se invece come accade soprattutto quando n grande la velocità di elaborazione non è tale da seguire la velocità di campionamento allora ovviamente succederebbe che con una logica first in first out si andrebbero a sovrascrivere campioni quando ancora magari non sono stati diciamo elaborati e allora quello che si fa solitamente è dimensionare il buffer in modo tale da avere diciamo un po' di spazio come dire un po' di tempo per poter elaborare i campioni provenienti da un certo regolo di acquisizione prima di essere sovrascritti e quindi magari non so ci sono delle regole empiriche di massima poi dipende molto anche dalle caratteristiche dell'hardware che avete e dalle frequenze di campionamento in gioco dalla velocità delle memorie in gioco dalla velocità dei processori in gioco e quant'altro dove fondamentalmente diciamo si va a dimensionare per esempio questo n a volte in alcuni casi anche 10 volte cioè la lunghezza del buffer si va a dimensionare anche 10 volte il numero di campioni n che si devono andare a elaborare dipende poi ripeto da un po' l'architettura fisica del sistema arriviamo poi all'operazione probabilmente più importante della diciamo di un'analisi in frequenza basata su FFT che è quello della finestratura perché lo scopo della finestratura è in pratica quello di cercare di limitare per quello che è possibile la cosiddetta dispersione spettrale o spectral leakage in inglese causata dalla condizione di campionamento asincrono allora giusto per ricordarmi voi sono concetti quelli della finestratura dell'FFT e del campionamento asincrono e sincrono o campionamento coerente e incoerente che già conoscete ve li ricordate? professore personalmente no non li avete ancora visti diciamo? per quanto mi riguarda no professore va bene diciamo meno importante in modo tale da capire con che livello di dettaglio ci devo andare quindi se posso essere un po' più rapido oppure ci perdo un pochino più di tempo va bene allora fondamentalmente innanzitutto allora la finestratura dicevo è una delle sezioni più importanti dell'FFT analyzer perché come vedremo dopo non solo adesso che andiamo a vedere le varie fasi ma anche poi con degli esempi che sono riportati nelle slide finali vedremo come diciamo gli effetti delle finestre o gli effetti della finestratura poi consentano meno di innanzitutto individuare addirittura in alcuni casi delle componenti spettrali e quant'altro ma diciamo anche di andare a fare più o meno misure in modo affidabile da un punto di vista matematico che cos'è la finestratura è la moltiplicazione della sequenza diciamo in ingresso dei campioni che erano memorizzati all'interno della memoria del buffer per una funzione appunto che si chiama window finestra ovviamente della stessa lunghezza e che ovviamente attraverso la trasformata di Fourier nel dominio della frequenza diventa un'operazione di convoluzione fra gli spettri di queste due funzioni cosa succede a questo punto che se io vado ad analizzare nel dominio del tempo immaginate che questo sia il segnale campionato quindi dove ovviamente i pallini rappresentano i campioni del segnale il prodotto significa fondamentalmente andare a moltiplicare questo segnale di ingresso per per esempio una finestra nel caso specifico qui un esempio di finestra rettangolare che appunto è non nulla sono all'interno ovviamente di un certo intervallo di tempo ovvero per un certo numero di campioni dopodiché diciamo riporta a zero e quindi la moltiplicazione per il segnale originale ovviamente darà risultato nullo quindi fondamentalmente significa in pratica nel caso della finestra rettangolare isolare così com'è un certo numero di campioni quindi isolarli rispetto al resto del segnale originario che ovviamente assumerà tutti i valori zero tutti i valori nulli nel domenio della frequenza quindi che cosa accade volendo andare a analizzare la stessa situazione ovviamente significa fare la convoluzione tra che cosa tra un segnale che tra lo spettro di questo segnale che essendo un segnale sinusoidale di fatto è costituito nel caso di questo esempio solo da una riga spettrale ovviamente diciamo collocata in generale sulla frequenza del segnale ovviamente qua stiamo parlando di frequenze normalizzate quindi a poco senso ma diciamo in ogni caso è giusto per indicare che è costituito da una sola riga spettrale dopodiché questo spettro che è quello del segnale originario ne viene fatta la convoluzione con lo spettro della finestra che tipicamente è uno spettro a lobby e che cosa succede? a questo punto il fatto che io vado a fare la convoluzione tra uno spettro e un altro genera fondamentalmente quella che si chiama dispersione spettrale perché in effetti che significa? che la singola riga spettrale del segnale in ingresso diciamo in qualche modo viene generalmente dispersa su più frequenze per effetto di questa finestra due quindi questo effetto moltiplicativo nel dominio del tempo della finestra e quindi di convoluzione nel dominio della frequenza provoca questa sorta di dispersione spettrale poi a seconda dei casi questa dispersione spettrale poi può dare dei problemi o meno e in particolare li darà quando ci troveremo in condizioni di cosiddetto campionamento asincrono su cui diciamo ovviamente analizzeremo un po' meglio fra qualche slide andiamo a capire però perché diciamo questo campionamento asincrono può realmente creare problemi allora per fare questo ricordiamoci di un fatto e cioè che l'algoritmo di FFT che poi è il modo abbiamo detto efficace e veloce per implementare la DFT si basa sull'assunto che la porzione di segnale di ingresso su cui si opererà quindi i famosi n punti che stanno all'interno del buffer sia in realtà ripetuta nel tempo ok quindi che cosa significa significa che se io per esempio immaginiamo di avere questo segnale originario questo qua è proprio il segnale in ingresso diciamo all'FFT all'FFT canalizer scusatemi quindi proprio quello che deve essere ancora campionato poi abbiamo detto che per io lo campionerò e lo memorizzerò all'interno di un certo record di acquisizione che è finito quindi significa che io non posso fare un'acquisizione indefinita immaginate che sia questo anche se non ho disegnato i pallini semplicemente per non appesantire il disegno ma per permetterci di vedere alcuni dettagli che ci interessano supponiamo che sia questa la porzione di segnale che è stata diciamo memorizzata sotto forma di campioni all'interno del buffer di durata n allora quel discorso che dicevo prima e cioè il discorso che l'alcoritmo si basa sull'assunto che la porzione di segnale in ingresso sia ripetuta nel tempo sapete cosa significa? Significa che in realtà lo spettro sarà calcolato su un segnale che è fatto in questo modo cioè un segnale in cui si prende di fatto il record di campioni acquisiti e lo si replica in pratica a destra e a sinistra e allora fateci caso in questa replicazione vedete cosa accade in corrispondenza degli estremi del diciamo del record acquisito praticamente si introduce una discontinuità sul segnale che ovviamente discontinuità nel dominio del tempo che nel dominio della frequenza si tradurrà nella nascita di componenti spettrali non presenti originalmente nel segnale e che faranno appunto diciamo disperdere l'energia la potenza del segnale originario che doveva essere confinata su una sola frequenza in corrispondenza della frequenza fondamentale la frequenza del segnale e invece andrà a essere dispersa per effetto di questa di fatto finestratura perché la finestratura di fatto significa anche limitare no finestrare delimitare diciamo il segnale in ingresso su un certo intervallo di tempo e questo problema si verifica se ci fate caso cioè questo discorso della discontinuità che vediamo nel dominio del tempo si verifica perché il numero di periodi del diciamo segnale acquisito o meglio il numero di periodi che capita all'interno del record acquisito non è intero perché io qua ne vedo uno due tre e più o meno tre e un quarto anzi tre e mezzo circa e quindi questo genera questa discontinuità quindi nel momento in cui il record acquisito non contiene un numero intero di periodi ci troviamo in quella che si chiama condizione di campionamento asincrono o anche nota come condizione di campionamento incoerente e quindi si generano delle discontinuità sul segnale su cui opererà l'FFT e quindi mi devo aspettare che in queste condizioni se non non faccio non prendo provvedimenti adeguati quello che vedrò nello spettro è qualcosa di diciamo anche artefatto ok quindi ci sarà sicuramente una parte di segnale utile ma ci sarà anche una parte diciamo che non esisteva nel segnale originario viceversa nel caso in cui ci troviamo per esempio nella situazione in cui il segnale originario o meglio il campionamento del segnale originario e la sua memorizzazione nel record acquisito consenta diciamo di ottenere di ottenere un numero intero di periodi come nel caso specifico qui e quindi di non avere delle discontinuità in corrispondenza degli estremi di questo intervallo del record acquisito ci troviamo in quelle che si chiamano condizioni di campionamento sincrono e quindi diciamo non si generano delle discontinuità sul segnale su cui opera l'FFT e quindi lo spettro del segnale che andremo a calcolare su cui andremo a fare delle misure sarà uno spettro diciamo che perlomeno non contiene armoniche o componenti spettrali che non erano del segnale originario nel caso specifico questa tipologia di segnali sia nel caso 1 che nel caso 2 quindi sia nel caso in cui c'ho un numero non intero di periodi acquisiti che nel caso in cui ce ne ho un numero intero poiché hanno una durata proprio già di partenza che è superiore alla larghezza e quindi al tempo di osservazione che posso permettermi di memorizzare prendono il nome di segnali non autofinestranti ok e sono diversi per esempio dai cosiddetti segnali autofinestranti cioè segnali che per esempio per loro natura hanno diciamo una natura transitoria e quindi significa che diciamo non si ripetono nel tempo e che magari hanno una durata un'evoluzione temporale che si esaurisce già all'interno del tempo di osservazione corrispondente alla durata di fatto temporale del record acquisito possono essere segnali transitori come può essere per esempio un segnale di un'oscillazione smorzata piuttosto che possono essere anche dei burst sinusoidali quindi dei segnali che diciamo assumono un andamento sinusoidale ma che non sono presenti costantemente nel tempo e quindi che di fatto diciamo si annullano all'interno stesso del di un intervallo del record acquisito con la conseguenza vedete che nel momento in cui applico lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima cioè considero il fatto che l'FFT di fatto opera su un segnale ripetuto nel tempo che cosa succede che essendo segnali autofinestranti e cioè che si annullano prima diciamo così dei limiti del record acquisito di fatto non saranno presenti delle discontinuità fra diciamo segmenti contigui e quindi di fatto nel caso specifico non è diciamo presente alcuna discontinuità e quindi lo spettro del segnale diciamo che verrà calcolato non risentirà di componenti spettrali dovute a questo problema e quindi dovuto alla dispersione spettrale e in questo caso vi dico che per i segnali autofinestranti addirittura diciamo è meglio non aggiungere finestratura sul segnale perché come vedremo fra un po' l'effetto della finestratura che ha lo scopo in pratica di andare a limitare l'effetto di queste discontinuità che si verificano in condizioni di campionamento asincrono diciamo ovviamente in una situazione del genere dove non c'è bisogno potrebbe viceversa creare qualche problema ok da un punto di vista di cosa significa poi non aggiungere una finestra significa fondamentalmente utilizzare la finestra rettangolare cioè quella in cui diciamo il segnale viene semplicemente delimitato per dire devo calcolare l'FFT su un certo numero di punti ma non vado come vedremo fra poco a pesare i campioni con un guadagno diverso diciamo a seconda della finestra come vedremo con qualche esempio fra poco ora sempre da un punto di vista diciamo analitico andiamo a dettagliare un po' meglio che cosa significa questo discorso del campionamento asincrono e campionamento sincrono allora partiamo sempre da qualche dato o comunque da qualche definizione allora supponiamo che FS sia al solito la frequenza di campionamento del mio segnale N il numero di punti acquisiti F IN indichiamo la frequenza di ingresso e K il numero di periodi acquisiti allora fondamentalmente ci troviamo in condizione di campionamento sincrono se praticamente il numero totale di campioni acquisiti moltiplicato per il tempo di campionamento e quindi che rappresenterà il tempo di osservazione tutta questa moltiplicazione questo primo membro è uguale a un certo K moltiplicato il periodo del segnale quindi T IN se tutta questa roba qua vale con N e K interi allora stiamo dicendo in pratica che stiamo acquisendo un certo numero intero di periodi praticamente del segnale in ingresso con la frequenza di campionamento 1 su T con S quindi la condizione di campionamento sincrono è quella in cui io riesco ad avere soddisfatta questa equazione che deriva ovviamente da quella di sopra che abbiamo impostato prima quando K è uguale intero assumendo ovviamente che anche N essendo un numero finito di campioni sia intero invece nel caso in cui diciamo questa relazione sia soddisfatta per K non intero allora si ottiene la condizione di cosiddetto campionamento asincrono e come vedete da questi esempi grafici questa qui è una chiara condizione di campionamento sincrono perché vedete il numero di periodi di acquisiti di fatto è 10 ovviamente l'undicesimo periodo inizierebbe da questo campione quindi non ci sarebbe discontinuità diciamo nella acquisizione no diciamo se io scelgo appunto un intervallo di acquisizione che è pari in questo caso a 10 periodi invece in queste per questo segnale qua vedete se io appunto scelgo un intervallo di acquisizione che appunto si ferma qui significa che sto prendendo in pratica un numero non intero di periodi perché ne sto prendendo 5 e più 5 e mezzo in realtà perché come al solito poi il successivo campione fa parte dell'eventuale successivo periodo e quindi qui si genererebbe quella famosa discontinuità di cui abbiamo parlato qui prima ok chiaro questi concetti ragazzi tutto chiaro ragazzi posso andare avanti non vi sento sì professore ok perfetto grazie sempre il feedback orale è meglio che quello in chat che non lo leggo allora a questo punto andiamo avanti poi se volete magari fra poco facciamo giusto un attimo una pausa a questo punto in che modo la finestra o meglio l'operazione di finestratura diciamo consente di ridurre diciamo lo spectral leakage o meglio facciamo però prima un passo indietro è vero che diciamo noi qui abbiamo due possibilità campionamento sincrono e campionamento asincrono per cui se siamo fortunati diciamo riusciamo a trovarci in una condizione di campionamento sincrono e quindi ad evitare a monte il problema della dispersione spettrale però purtroppo nella pratica vi rendete conto che sarebbe molto più facile trovarsi in una condizione di campionamento asincrono invece che sincrono perché diciamo innanzitutto spesso il segnale in ingresso è incognito e quindi io non è che conosco sta F in quanto vale poi ho degli altri diciamo vincoli da osservare e cioè il fatto che il numero di punti n pure quello sostanzialmente spesso è fissato e se non è fissato varia con degli step discreti quindi non so gli strumenti hanno n uguale 500 n uguale 1000 n uguale 5000 10.000 50.000 cioè sono numeri diciamo vari ma fissati predefiniti quindi non è che posso mettere per dire n uguale 488 o n uguale 1562 cioè sono comunque dei valori discreti quindi inizio ad avere dei vincoli all'interno di queste formulette di questa formula così come ce l'ho anche su FS anche la frequenza di campionamento di uno strumento in generale non è che varia in modo continuo cioè io non posso scegliere nella maggior parte degli strumenti una qualsiasi frequenza di campionamento scelgo 10 kg sample al secondo piuttosto che 25 piuttosto che 50 mega sample al secondo quindi anche su quello c'ho una serie di limiti e tutto questo fa sì che proprio perché poi f in può essere la più varia possibile non è facile trovarsi in condizioni di campionamento sincrono è più una fortuna che è una diciamo consuetudine che si ha nelle situazioni pratiche quindi è bene capire come cercare di gestire al meglio la condizione di campionamento asincrono e quindi quella in cui non prende un numero di periodi intero diciamo non capitano non vengono memorizzate all'interno del record di acquisizione un numero intero di periodi del segnale d'ingresso ok e allora a questo punto come fanno queste finestre a consentire di diciamo ridurre l'effetto della dispersione spettrale allora fondamentalmente la finestratura abbiamo detto è la moltiplicazione di un segnale parliamo nel dominio del tempo della sequenza in ingresso per una funzione di finestra appunto di finestratura che diciamo ha dovrebbe avere lo scopo di limitare il problema delle discontinuità agli estremi del record di acquisizione e allora fondamentalmente per finestrare un segnale che abbia queste diciamo proprietà in pratica si utilizzano varie finestre esistono varie finestre solitamente vengono implementate varie finestre all'interno degli strumenti che in pratica che cosa fanno fatta eccezione per la rettangolare che come abbiamo già accennato prima non introduce nessun tipo di guadagno diciamo diverso sui vari campioni acquisiti nel caso delle altre finestre come per esempio io ne ho riportate qui alcune ma ne esistono tantissime in letteratura quindi immaginiamo la Henning piuttosto che la Blackman Harris eccetera come sono riportati nell'esempio il loro effetto qual è nel tempo è quello di andare a diciamo pesare i campioni agli estremi molto poco per poi diciamo con il loro shape di guadagno fondamentalmente andare a consentire a far sì che i campioni diciamo interni al 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 record di acquisizione in particolare più o meno nelle zone centrali non vengano quasi attenuati non vengano quasi diciamo distorti mentre invece mano a mano che si va verso gli estremi si va ad attenuare molto il segnale poi chi più chi meno cioè vedete un po' la Henning è quella lì verde quindi vedete c'ha diciamo delle oscillazioni maggiori e anche l'attenuazione è un po' minore rispetto alla Blackman Harris invece la Blackman Harris c'ha una attenuazione molto significativa negli estremi e anche leggermente al di fuori degli estremi però voglio dire il senso qual è quello di attenuare le discontinuità per fare in modo che poi quando vado ad appiccicare vicini questi segmenti di diciamo di dati a destra e a sinistra fondamentalmente ho attenuato le discontinuità ovviamente qualcuno potrebbe dirmi ma in questo modo non stiamo distorcendo il segnale che stiamo andando ad analizzare e vi dico la verità è ovviamente sì la finestratura diciamo ha un effetto però tutto sommato se poi io di questo segnale che era un segnale ripetitivo era un segnale costante nel record di acquisizione per esempio una sinusoide quali sono le informazioni che mi interessano ampiezza e frequenza diciamo per questa diciamo sinusoide per cui anche se io ho tutti questi periodi del segnale che verranno in qualche modo attenuati ma almeno due o tre più o meno invece mi consentono di estrarre l'informazione di ampiezza e frequenza in maniera diciamo affidabile per me va benissimo il problema invece è quando i segnali sono già autofinestrati invece di avere magari un comportamento un comportamento ripetitivo sinusoidale stazionario eccetera sono dei segnali transitori allora la sì che se io andassi ad applicare diciamo quella finestra che magari attenua moltissimo qui e prima di magari non attenua solo al centro diciamo che cosa avrei avrei che praticamente il mio transitorio sarebbe completamente distorto cioè il mio segnale acquisito sarebbe completamente distorto rispetto a quello diciamo originale e quindi ovviamente in quel caso avrei delle misure sballate ecco perché quando parlavamo di segnali autofinestranti non occorre inserire la finestra ovvero diciamo si inserisce automaticamente solo la finestra rettangolare che è l'unica finestra che come abbiamo detto anche qua prima di fatto non va a inserire nessun tipo di sagomatura sui campioni perché di fatto li pesa tutti allo stesso modo ovviamente stiamo ragionando nel dominio del tempo ok aro ci siamo ragazzi sì ok ma a questo punto perché esistono più finestre no perché in effetti come al solito poi diciamo non tutte le finestre non esiste una finestra ottima ognuna è caratterizzata da parametri diversi rispetto ad un'altra e quindi diciamo a seconda magari dell'applicazione e delle necessità specifiche di misura che si hanno su quella specifica applicazione può essere più utile utilizzare una finestra piuttosto che un'altra in particolare i parametri caratteristici principali di una finestra in pratica sono principalmente tre che sono la larghezza del lobo principale perché tenete presente che tutte queste finestre sono caratterizzate da spettri al lobby quindi caratterizzati da la presenza di un lobo principale tipicamente più largo di tutti gli altri e che è uno dei parametri caratteristici di queste finestre poi diciamo un altro parametro importante tipicamente è l'ampiezza del primo lobo secondario quindi diciamo il primo lobo a fianco a quello principale e poi un altro parametro anche molto importante è di fatto con che velocità decadono i lobby secondari ovvero il cosiddetto roll off come vi dicevo non esiste una finestra ottima per tutte le applicazioni e che consente di come dire ottimizzare tutti questi parametri ma poi a seconda dell'applicazione bisogna poi cercare di andare a selezionare quella più appropriata giusto per in maniera qualitativa darvi un'idea di quali sono appunto le caratteristiche delle per esempio di alcune di queste finestre molto utilizzate nella pratica per quanto riguarda la finestra rettangolare ovviamente abbiamo detto che nel minimo del tempo non introduce nessun shape nessun guadagno diciamo diverso da uno sui vari campioni quindi non consente in generale di attenuare le discontinuità e però diciamo in generale ha delle caratteristiche che in alcuni momenti sono molto importanti e cioè innanzitutto il lobo principale stretto cioè il primo lobo è diciamo quello in assoluto più stretto corrispondente diciamo in confronto a tutte le altre finestre possibili che si possono impiegare però diciamo ha da accanto suo un roll off relativamente lento cioè i lobby secondari non decadono molto velocemente con la frequenza quindi soprattutto se stiamo diciamo in prossimità del diciamo del lobo principale purtroppo risentiamo abbastanza della presenza dei lobby secondari in più l'effetto del lobo principale stretto può provocare nel caso di misure di ampiezza in condizioni di campionamento asincrono come vedremo fra un po' anche a sottostime della reale ampiezza del segnale anche dell'ordine di 30% la finestra di Henning che è una finestra pure molto impiegata nella pratica invece vedete c'ha uno shape nel tempo che è diverso quindi fa proprio quello che vi dicevo prima cioè va a cercare di azzerare i campioni che si trovano agli estremi del regolo di acquisizione per pesare in pratica con guadagno unitario quelli che si trovano al centro le caratteristiche diciamo della Henning rispetto al rettangolare sono un lobo principale un po' più largo ma fateci caso lo vedete anche da questa scala poi dopo la confrontiamo sicuramente un roll off più rapido rispetto a diciamo alla rettangolare giusto per fare un esempio in corrispondenza della frequenza normalizzata 0,4 qua abbiamo meno 40 dB invece a 0,4 nella rettangolare abbiamo 5 dB quindi ci sono un attimo circa 45 dB di distanza tra le due finestre quindi ovviamente la Henning diciamo fa attenuare molto più velocemente diciamo i lobby secondari nel caso di campionamento asincrono la Henning consente di migliorare un pochino diciamo le prestazioni rispetto alla rettangolare perché nel caso peggiore si dovrebbero diciamo ottenere misure comunque caratterizzate dai toni inferiori al 20% mentre invece diciamo nel caso della finestra rettangolare quasi prossimi al 40% nel caso peggiore infine andiamo a vedere la finestra flat top mi scusi professore sì ma alla fine tutti questi queste finestrature non sono altro che nel dominio della frequenza non sono altro che un pseudo sync sì sì assolutamente sì 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 certo per quanto riguarda invece la finestra flat top è un estremo ancora diciamo maggiore rispetto alla ending in termini di lobo principale che è ancora più grande rispetto a quella di ending appunto il che inizia diciamo a porci qualche problema in generale in termini di risoluzione in frequenza perché poi come vedremo con gli esempi allargare troppo il lobo principale può portare a non avere risoluzioni in frequenza sufficienti a discriminare toni vicini però diciamo il grosso vantaggio di questa flat top è innanzitutto un roll off vedete praticamente un piatto ma allo stesso tempo diciamo con dei lobby secondari che hanno un'attenuazione che è molto elevata quindi significa che l'effetto dei lobby secondari diciamo non ce l'ho con la finestra flat top ai fini pratici ed è l'unica insieme in realtà rispetto a quelle che abbiamo analizzato ma diciamo l'unica per dire come famiglia cioè le famiglie di finestre come la black man eris piuttosto che la flat top che sono appunto testa molto piatta cioè con lobo principale molto largo sono quelle che in generale consentono di fare misure accurate di ampiezza anche in condizioni di campionamento asincrono ma perché è importante diciamo così appunto il capire la larghezza del lobo principale e diciamo l'altezza dei lobby secondari in relazione poi a quello che dobbiamo misurare perché fondamentalmente quando ci troviamo in condizioni di campionamento asincrono che sarebbe il caso 1 riportato in questa slide ovvero prendiamo un numero non intero di periodo del segnale sinusoidale quello che accadrà purtroppo è che diciamo la potenza del tono originario che dovrebbe teoricamente trovarsi in corrispondenza del centro della diciamo dell'integrale ottenuto di convoluzione e quindi in corrispondenza del picco fondamentalmente del lobo principale della finestra cosa succederà che invece di trovarsi qua come accade in questo caso e diciamo di tutti gli altri campioni trovarsi nei nulli dei lobby secondari e quindi di fatto di non contribuire allo spettro in condizioni di campionamento asincrono mi trovo in una situazione di questo tipo cioè dove da un lato vedete ci sono dei campioni che andranno a finire in corrispondenza diciamo sicuramente non del massimo della finestra in generale ma si sposteranno rispetto al centro della finestra a destra e a sinistra e in più vedete cosa succede ai campioni che prima si trovavano nelle condizioni di nullo vanno a capitare in corrispondenza dei magari massimi dei lobby secondari o comunque non nelle condizioni di nullo e allora vi rendete conto che diciamo nelle condizioni di campionamento asincrono che come abbiamo detto possono essere quelle più comuni nella pratica diciamo la scelta della finestra ovviamente fa la differenza a seconda di quello che devo misurare perché perché se io come vedrei con degli esempi dopo ho dei lobby più larghi probabilmente anche se sto un po' spostato rispetto al centro non commetterò diciamo un errore sulla misura di ampiezza troppo significativo rispetto ad una situazione invece del genere così come avere dei lobby secondari comunque bassi mi consente di diciamo garantirmi che anche in condizioni di campionamento asiclono il diciamo l'effetto di questi campioni che capitano in corrispondenza dei massimi dei lobby secondari magari non sarà così fastidioso soprattutto nel momento in cui magari ho in ingresso un segnale che non è una pura sinusoide ma è costituito da una composizione di sinusoidi però di ampiezze molto diverse e quindi alle quali potrebbero corrispondere dei lobby principali di ampiezza molto diversa e a quel punto ampiezza molto diversa significa in alcuni casi ordini di grandezza quindi decibel se io ho diversi decibel se io ho dei lobby secondari troppo alti come vedremo con gli esempi potrebbero nascondermi la presenza diciamo invece di componenti di componenti del segnale originario ad ampiezza molto più bassa magari di una componente principale e quindi ecco perché è importante in generale diciamo tenere in mente queste proprietà principali delle finestre in modo tale da far sì che diciamo le si vada a scegliere la finestra il tipo di finestratura sulla base di quello che io devo andare ad analizzare e cercando di evitare che l'effetto proprio stesso della finestratura possa poi portarmi fuori strada diciamo nell'analisi di un segnale ok vabbè io direi di fare giusto un attimo cinque minuti di pausa che dite ragazzi sono le dieci e dodici va bene professore ok riprendiamo alle dodici e diciassette grazie 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 ok ok ragazzi allora riprendiamo e ovviamente da quella slide da cui ci eravamo lasciati allora praticamente abbiamo affrontato il problema della finestratura almeno la funzione di quella sezione poi è ovvio che diciamo andremo come con gli esempi che si capiranno un po' meglio quegli aspetti che accennavo prima andiamo sui blocchi successivi in particolare va bene il blocco di FFT che di fatto è l'implementazione dell'algoritmo fast flow rate transform per il calcolo dello spettro che tipicamente come dicevo vi accennavo è eseguito su microprocessore un microcontrollore piuttosto che un digital signal processor con caratteristiche diciamo adeguate da poter diciamo eseguire l'algoritmo generalmente in tempi ragionevoli anche perché uno dei vantaggi dell'FFT analyzer per esempio rispetto a l'analisi di spettro super eterodina è quello di poter diciamo in generale eseguire di seguire le variazioni dello spettro e quindi diciamo di poter analizzare anche segnali transitori segnali diciamo a spettro non stazionario tutto tutto questo solo se ovviamente l'elaborazione avviene in tempi diciamo rapidi in tempi adeguati ora andiamo ad analizzare il display perché qui ci sono delle altre cose interessanti da considerare allora cosa mi aspetto di trovare sul display di un FFT analyzer al solito mi aspetto di trovare più o meno una griglia tipo quella diciamo graduata che vedete nello sciloscopio numerico in cui troverò rappresentato lo spettro attraverso in pratica dei campioni perché l'FFT appunto campiona lo spettro del segnale originale di fatto e questi campioni saranno distanziati per quello che abbiamo detto anche all'inizio della lezione di una quantità pari ad FS su N dove FS la frequenza di campionamento è N il numero di punti e in generale lo span di analisi quindi l'insieme delle frequenze che io andrò a poter analizzare contemporaneamente è limitato al valore Fmax da 0 a Fmax diciamo con dove Fmax è pari alla metà della frequenza di campionamento utilizzata ok ovviamente poi questi campioni potrebbero essere diciamo interpolati o meno a seconda dello strumento che state utilizzando cioè in molti casi sul display trovate solo i campioni in altri casi trovate che lo strumento fa anche una sorta di interpolazione lineare piuttosto che sinusoidale per diciamo andare a diciamo a coggiungere in qualche modo a dare un'idea di una linea continua fra i campioni e quindi allo spettro del segnale ora se vale questo discorso cioè che fondamentalmente fissata la frequenza di campionamento FS quello che io posso vedere in generale va da 0 FS diventa problematica diciamo l'effettuazione di un'analisi magari un po' più dettagliata cioè quello di fare magari uno zoom su una sola area di interesse per esempio quella delimitata in rosso dalla diciamo dalla in questa slide però fare uno zoom che sia solo uno zoom visivo cioè nel senso che vada semplicemente a ingrandire una parte diciamo dello schermo per permettermi di fare un'analisi più approfondita in realtà diciamo non è l'ottimo nel senso che diciamo vedremo fra un po' che non consentirebbe di poi ottenere dei miglioramenti in termini di risoluzione in frequenza cioè nel senso che vedremmo solo un miglioramento in termini visivi perché come detto diciamo una variazione della risoluzione in frequenza e quindi la distanza fra i campioni può essere ottenuto solo se io vado ad agire sul rapporto FS su N dove N mediamente è fisso FS diciamo poi dobbiamo capire per adesso lo stiamo considerando fisso quindi fondamentalmente uno zoom fatto solo per visualizzare meglio i campioni andrebbe a fare una cosa del genere cioè semplicemente andrebbe a espandere in pratica diciamo la traccia i campioni sullo schermo ma fondamentalmente questi disterebbero sempre FS su N quindi fondamentalmente significa che diciamo molta parte dello schermo non la sto sfruttando perché diciamo semplicemente questa parte gialla che io vedo è frutto semplicemente solo di un'interpolazione quindi cosa fa realmente il segnale all'interno di questo intervallo non lo so lo spettro del segnale non lo so quindi diciamo sicuramente non è questa la soluzione che poi solitamente si adotta ma si cerca di diciamo andare a sfruttare appunto questo fatto cioè che se io ho una certa frequenza di campionamento FS la risoluzione FS su N allora a questo punto l'idea per cercare di anche fare in modo che nel momento in cui vado a zoomare su un'area dello spettro di maggior interesse migliori anche la risoluzione in frequenza allora è quella di andare a ridurre la FS perché N è fissato e quindi per esempio portarmi da una certa FS ad una F'S che è minore diciamo della FS diciamo iniziale nel caso specifico di questo esempio stiamo ipotizzando magari di spostare la F'MAX ad una F'MAX che è F'S mezzi quindi giusto per un fatto di semplicità anche di disegni l'esempio è immaginato in modo tale da andare a dimezzare in pratica la frequenza di campionamento in queste condizioni ovviamente poiché abbiamo detto che lo span di analisi va da 0 a la frequenza di campionamento diviso 2 ovviamente il nuovo span di analisi sarà da 0 a F'MAX ovvero a F'S mezzi scusate sì F'S mezzi perfetto a questo punto che cosa succederà che diciamo poiché la risoluzione in frequenza abbiamo più volte detto è il valore della frequenza di campionamento effettiva diviso il numero di punti questa volta essendo la frequenza di campionamento F'S invece di F'S la risoluzione in frequenza sarà data da F'S su N e quindi quello che vedrò appunto è che diciamo nonostante abbia zoomato sulla stessa area di interesse che abbiamo visto prima in pratica dello spettro in pratica adesso i campioni saranno distanzati di F'S su N e quindi avrò colmato anche dei buchi che c'erano prima e quindi di fatto sto migliorando anche l'analisi spettrale perché ne ho migliorato la risoluzione in frequenza ovviamente diciamo per ridurre F'S però la prima cosa che uno potrebbe immaginare di fare è quello di provare a ridurre la frequenza di campionamento del convertitore questa cosa qui diciamo però è una cosa non è una ipotesi praticabile perché fondamentalmente cambiare la frequenza innanzitutto si preferisce in generale avere un convertitore AD che lavori ad una frequenza di campionamento fissa e potenzialmente la più alta possibile in generale e poi diciamo magari procedere a riduzioni della frequenza di campionamento attraverso dei metodi software che poi è quello che si utilizza diciamo e che spieghiamo adesso fra poco per effetto magari di operazioni di decimazione in più un altro problema che si avrebbe nel modificare la frequenza di campionamento dell'ADC sarebbe quello che poi visto che se io poi ho facoltà di abbassare la frequenza di campionamento dell'ADC posso incorrere in situazioni di aliasing se non adeguo diciamo anche il filtro la frequenza di taglio del filtro passo a basso che è nel blocco di condizionamento dovrei poi avere diciamo anche un filtro passo a basso che si adegua alla FS quindi ogni volta che vario FS dovrei variare anche diciamo la frequenza di taglio del filtro passo a basso che sta nel blocco di condizionamento ovviamente questa soluzione sarebbe una soluzione complessivamente poco efficiente oltre che anti-economica oltre al fatto che potrebbe portare a diciamo ulteriori cause di incertezza perché poi avere un filtro LPF a frequenza di taglio fissa è una cosa averne uno a frequenza di taglio variabile ovviamente porterebbe altre problematiche realizzative anche diciamo di incertezza e allora qual è diciamo l'idea è quella di fare in modo che l'abbassamento della frequenza di campionamento effettiva con cui poi trattare il segnale e quindi finestrarlo fatene le FFT eccetera eccetera e visualizzarlo lo si ottiene attraverso un'operazione di decilazione numerica sul segnale originariamente campionato alla frequenza FS quindi che cosa significa significa che io la DC lavora sempre la frequenza FS diciamo che è appunto come vi dicevo la frequenza massima possibile magari dallo strumento e per il quale detto N ovviamente otterrei una risoluzione diciamo pari ad FS su N dove N abbiamo detto il numero di punti il decimatore invece è un oggetto che che cosa fa data questa sequenza di punti utilizza un fattore di decimazione per prenderne uno ogni TOT dove TOT rappresenta appunto il fattore di decimazione e allora nel caso in cui per esempio io decimo questa sequenza con fattore 2 di fatto sto ottenendo un nuovo segnale in cui prendo un campione sì e un campione no rispetto alla sequenza originaria quindi riduco di fatto il numero di campioni per periodo con cui vado a descrivere il segnale ma poiché N è costante complessivamente aumento il numero di periodi quindi di fatto aumento il record l'intervallo di osservazione equivalente e quindi che cosa succede che quando vado a ricalcolare la risoluzione ottengo che questa volta è f' s su N ovvero s diviso 2N quindi rispetto alla risoluzione di partenza l'ho dimezzata e quindi l'ho migliorata ottenendo quello che era diciamo l'obiettivo questo significa quindi che all'interno del mio schema blocchi devo prevedere che prima di memorizzare i campioni e poi effettuare tutte le operazioni a valle dell'ADC ci dovrà essere un decimatore generalmente ovviamente con fattore di decimazione variabile e che mi consente appunto di ridurre di fatto la frequenza di campionamento effettiva sul segnale su cui poi opererà la FFT la finestratura diciamo variabile ovviamente in generale per step ok ora altro piccolo miglioramento che possiamo apportare allo schema è quello di dire ok ma per quello che abbiamo detto fino adesso in pratica io variando attraverso il decimatore la frequenza di campionamento quello che in realtà vado a fare è zoomare un'area dello spettro che però comincia sempre dallo zero ok quindi da zero hertz ovviamente anche qui potrebbe capitare che in alcuni momenti a me non interessa vedere cosa succede alle basse frequenze in particolare a zero hertz ma voglia provare a fare uno zoom su una parte qualsivoglia dello spettro del segnale e allora diciamo di fatto che cosa sto dicendo sto dicendo che io voglio fare in modo che la frequenza centrale del mio span di analisi non sia più pari a f max mezzi che è quella che diciamo corrisponderebbe in pratica a questa come dire segmento dello schermo attuale ma corrisponda magari ad un'altra frequenza centrale con un nuovo span che mi consenta di non vedere più la zero hertz ma che mi permetta di fare uno zoom solo su una parte di interesse del segnale stesso dello spettro del segnale stesso e allora cosa voglio arrivare a fare voglio arrivare ad una situazione di questo tipo cioè voglio andare a zoomare su un certa area di interesse in cui però la frequenza centrale non è f max mezzi ma è una certa f c e quindi i due estremi non saranno zero f max mezzi ma saranno f c meno span mezzi f c più span mezzi dove span rappresenta ovviamente l'intero range di frequenze che voglio andare a analizzare in quel momento come faccio a ottenere questo praticamente semplicemente moltiplicando aggiungendo uno shift diciamo nel dominio del tempo il segnale per in pratica una cosinusoide alla frequenza f c centrale desiderata e quindi fondamentalmente in questo modo grazie all'impiego combinato di questa moltiplicazione della cosinusoi del decimatore in pratica riesco a diciamo ottenere uno schema che mi consente di effettuare uno zoom su un'area di interesse qualsivoglia lavorando però a frequenza fs di campionamento fissa da parte dell'ADC ora detto questo siamo arrivati praticamente diciamo allo schema quasi definitivo se non ricordo male in cui praticamente abbiamo dettagliato tutti gli aspetti principali dell'FFT analyzer e da un punto di vista diciamo poi operativo quindi dell'utilizzatore che deve effettuare un'analisi con diciamo FFT fondamentalmente devo poi ricordarmi se per esempio vi dovesse capitare sia durante l'esercitazione ma anche come domanda di esame di dire piuttosto che spiegarmi diciamo lo schema blocchi dell'FFT analyzer magari facciamo un esercizio e quindi diciamo magari vi viene dato un segnale di su cui effettuare un'analisi che abbia certe caratteristiche e vi viene chiesto di dire ok come le faresti ad impostare l'analizzatore di spetto l'FFT analyzer per fare questo tipo di analisi fondamentalmente per quello che abbiamo visto da quello schema blocchi in pratica e per quello che abbiamo cominciato a indicare anche come parametri importanti dell'analizzatore dell'FFT analyzer in pratica i parametri che dovete essere in grado di saper dimensionare e scegliere sono la frequenza effettiva di campionamento del segnale il numero di punti diciamo n su cui effettuare appunto l'FFT e poi la tipologia di finestra ovviamente i primi due parametri che abbiamo detto sono dei parametri che di fatto ci consentono di capire che risoluzione in frequenza possiamo garantire e ovviamente andrebbero dimensionati sulla base della risoluzione in frequenza richiesta per l'analisi del segnale da acquisire da analizzare scusatemi e per quanto riguarda la tipologia di finestra ovviamente dipendentemente ancora una volta dalle caratteristiche del segnale d'ingresso in termini di frequenza e tipologia di segnale se è un segnale magari che è una singola sinusoide piuttosto che una combinazione di sinusoide oppure un altro segnale ancora potrete poi definire quale potrebbe essere la migliore finestra da utilizzare anche in relazione alle misure che poi dovete fare su questo segnale adesso vediamo queste qualche esempio in modo tale da capire fissare un po' meglio anche certi argomenti certi certi anche certe considerazioni quindi importante questo fatto cioè se vi viene chiesto qual è quali sono i diciamo i principali parametri di impostazione di un FFT analyzer quello che dovete ricordarvi è esattamente questi tre punti frequenza effettiva di campionamento del segnale numero di punti e tipologia di finestra ok ora andiamo a vedere come l'effetto combinato di questi parametri in relazione alle varie tipologie di segnali che potreste trovarvi diciamo in pratica abbiano un effetto più o meno positivo o negativo rispetto alle misure che dobbiamo effettuare e allora facciamo un primo esempio allora innanzitutto vediamo consideriamo un segnale a frequenza di ingresso 50 Hz quindi diciamo un segnale puramente sinusoidale quindi costituito da una singola sinusoide e utilizziamo immaginiamo una frequenza di campionamento di un KHz per diciamo campionare questo segnale ovviamente rispettiamo Nyquist condizioni di Nyquist supponiamo di prendere diciamo così un numero intero di periodi pari a 10 di conseguenza significa aver scelto in pratica un numero di punti se vi fate i conti questi sono conti matematici abbastanza banali magari diciamo li verificate voi per esercizio otteniamo che di fatto stiamo lavorando con 200 punti ok per garantire a quella frequenza di campionamento con quel segnale di ingresso un numero intero di periodi pari a 10 a questo punto che cosa significa che se io vado a calcolarmi la risoluzione in frequenza espressa qui come delta F uguale FS su N ottengo diciamo un KHz diviso 200 ottengo 5 Hz di risoluzione in frequenza benissimo a questo punto proviamo ad applicare la decimazione in particolare un fattore di diciamo decimazione pari a 2 perché in pratica scelgo una frequenza di campionamento F'S che invece è 500 Hz invece di 1 KHz a parità di numero di punti che cosa succederebbe? praticamente prenderei 20 periodi del segnale quindi me ne trovo di più ovviamente e l'effetto sulla risoluzione vedete è tale per cui ottengo un miglioramento perché l'ho dimezzata e quindi sicuramente un fatto positivo in generale ai fini della come dire di un'analisi più affidabile più risoluta appunto dello spettro ok? Cosa significa questo nel dominio della frequenza? Allora in questa slide è riportata in alto la FFT quindi calcolata praticamente in MATLAB di quel segnale in ingresso con quei valori di F, S, N e così via utilizzando per adesso una finestra rettangolare quindi di fatto non finestrando ulteriormente il segnale e quello che vi faccio notare innanzitutto che fissata la frequenza di campionamento a 1 KHz vabbè è riportata anche qui quindi lo possiamo anche rivedere da qua poi la massima frequenza di analisi è FS mezzi quindi io qua riesco a vedere al massimo fino a 500 Hz in più se vado a zoomare e vado a vedere quanto distano diciamo tra loro due bin quindi due campioni spettrali scopo esattamente appunto che sono 5 Hz quindi quello che mi aspettavo che avevo calcolato teoricamente ora nel momento in cui utilizzo il segnale decimato cioè utilizzo una frequenza di campionamento più bassa notate che da un lato ho ridotto il range lo span di analisi perché questa volta adesso è fino a 250 Hz FS mezzi ma se vado a vedere la distanza proprio temporale fra questi campioni e la distanza frequenziale scusatemi fra questi campioni vado a fare uno zoom ottengo che è 2.5 Hz e quindi ovviamente ho migliorato la risoluzione così come era atteso ora iniziamo a diciamo vedere l'effetto della finestratura questa di fatto è l'immagine che abbiamo riportato già prima abbiamo già anticipato prima abbiamo visto come le finestre rispetto ad un segnale acquisito ancora una volta con le caratteristiche che abbiamo detto prima segnale puramente sinusoidale eccetera l'effetto delle varie finestre è quello in pratica di diciamo portare quasi a zero nel caso delle finestre non rettangolare delle finestre non rettangolari i campioni in modo da attenuare le discontinuità agli estremi e diciamo mentre invece mano a mano che ci avvisiniamo verso il centro del record di acquisizione di pesare senza attenuazione diciamo i relativi campioni del segnale ma che effetto ha diciamo in frequenza questo andiamo nel dominio della frequenza quindi calcoliamoci l'FFT a valle di queste operazioni di finestratura ancora una volta notiamo che il valore massimo di frequenza è 500 Hz pari alla metà della frequenza di campionamento e qui sono sovrapposte vedete gli spettri calcolati considerando tre tipologie di finestra appunto la rettangolare la Hennig e la Blackman Harris come potete notare diciamo poi lo vediamo ovviamente meglio con degli zoom successivi però notate innanzitutto che gli spettri sono tra loro sovrapposti ovviamente i campioni sono tutti distanziati sempre di FS su N quindi voglio dire sempre di diciamo 5 Hz quindi sono tutti sovrapposti tranne quelli del lobo principale dei lobo principali perché perché la finestra rettangolare ha diciamo un lobo principale più stretto e quindi voi vedete chiaramente discriminati anche questi due campioni diversamente dai verdi e dai rossi che si riferiscono alle altre due finestre la finestra di Hennig è quella che ha rispetto alla finestra rettangolare un diciamo lobo leggermente più ampio in realtà il doppio rispetto a quello della rettangolare e quindi fondamentalmente vedete che i campioni si annullano un po' diciamo distanti esattamente di due bin rispetto alla finestra rettangolare e così anche per la Black Man Harris che rispetto alle tre finestre è quella che ha il lobo principale più ampio quindi diciamo i lobby si vanno ad attenuare un po' ancora oltre rispetto a la finestra rettangolare e a quella di Hennig vi faccio però notare che gli unici campioni spettrali che coincidono sono quelli diciamo anche se si vede meno bene qua sono quelli si vede meglio in quest'altra slide sono quelli corrispondenti proprio al centro della finestra e quindi al centro del lobo perché accade questo perché fondamentalmente ci troviamo in questo caso in una condizione chiaramente di campionamento sincrono perché perché fondamentalmente abbiamo preso un numero intero di periodi del segnale e quindi se vi andate a fare quei conticini tra frequenza quella formuletta che vi ho fatto vedere prima quando abbiamo definito che cosa significa campionamento sincrono e asincrono in pratica quello che succede è che ci troviamo nella condizione in cui k è intero e quindi l'effetto in frequenza è tale per cui diciamo il campione corrispondente al tono del segnale si trova esattamente nel centro della finestra indipendentemente dalla finestra che vado a utilizzare quindi quando ci troviamo in condizioni di campionamento sincrono fondamentalmente l'utilizzo di una finestra rispetto ad un'altra non porta nessun tipo di differenza nella misura di ampiezza del singolo tono ok e qui vedete diciamo riportati anche i valori di larghezza del lobo principale per le tre finestre ok tenete presente questo è delta non delta f il delta f è la distanza fra i singoli campioni il delta ret delta hang delta black man risindica semplicemente la larghezza del lobo principale di queste tre finestre ok andiamo a fare una piccola variazione rispetto a prima rispetto al segnale di prima per vedere che effetti abbiamo in particolare la variazione che abbiamo rispetto a prima è semplicemente il numero di campioni quindi qui è riportato in rosso semplicemente per far vedere che diciamo è l'unico parametro che abbiamo variato rispetto all'esempio di prima ancora una volta vi faccio notare che variando il numero di periodi diciamo e quindi il numero di campioni l'unica cosa che non cambia è la fs mezzi che quella dipende dalla frequenza di campionamento che stiamo utilizzando e quindi il range di analisi sarà sempre da 0 a fs mezzi però notate che grazie al fatto di aver preso più periodi in pratica diciamo è migliorata la larghezza del lobo principale cioè è diventata più piccola la larghezza del lobo principale e ovviamente è migliorata anche la risoluzione cioè il delta f questa volta a parità di frequenza di campionamento che è sempre la stessa ovviamente diciamo è diventato significativamente più piccola perché mentre prima erano 10 periodi adesso ne sono 50 e quindi è esattamente diventata un quinto rispetto a prima ok così come anche a questo punto le larghezze dei lobi principali delle varie finestre sono diventate esattamente un quinto rispetto a prima ok poi per tutto il resto delle considerazioni che abbiamo fatto vale lo stesso cioè in condizioni di questo tipo siamo ancora in condizioni di campionamento sincrono e quindi fondamentalmente le ampiezze dei dei toni del tono scusatemi calcolato con le varie finestre non cambia invariante rispetto al tipo di finestre che si va a considerare iniziamo a considerare adesso un caso un pochettino più diciamo strano e cioè un caso in cui il segnale in ingresso non è più un singolo segnale una sola è costituita una singola componente sinusoidale ma è costituita da due componenti tra altre cose di ampiezza simile fra loro quindi sono a frequenza 50 Hz una e frequenza 51 Hz la seconda componente sono semplicemente segnali sommati quindi una sovrapposizione proprio lineare senza nemmeno pesatura delle ampiezze quindi le ampiezze delle due componenti sono identiche e ci troviamo a lavorare nelle condizioni in cui diciamo stavamo all'inizio cioè FS su N uguale 500 Hz e quindi diciamo così con questo numero di punti a questo punto se mi vado a calcolare il numero di periodi ovviamente sarà un numero di periodi che è intero per FIN1 ma poiché la frequenza FIN2 è 51 Hz se mi vado a fare i conti trovo che questo numero di periodi in effetti è 10.2 rispetto al segnale FIN2 e allora cosa noto se vado a vedere cosa succede nel dominio del tempo in queste condizioni e cosa succede nel dominio della frequenza innanzitutto nel dominio del tempo vedo questo segnale che appunto ha un'ampiezza non più costante per effetto della modulazione introdotta dalla seconda componente in pratica però nel dominio della frequenza cosa vediamo che diciamo io ho una che risoluzione abbiamo la risoluzione è sempre FS su N quindi 5 Hz e questa risoluzione vedete non è in grado di discriminare la presenza la presenza di due toni io in frequenza vedrò semplicemente uno spettro un po' storto un po' asimmetrico rispetto a quello che vedevo prima ma che comunque non mi consente di vedere la presenza di due toni che invece ci sono nel segnale originale ma perché diciamo non lo riesco a fare perché la risoluzione in frequenza cioè quindi la minima distanza diciamo in frequenza fra due campioni è 5 Hz in più tenendo presente che ciascuna finestra in qualche modo a un lobo principale all'interno del quale cade il campione diciamo spettrale del segnale in ingresso che è perlomeno nel caso della rettangolare due volte delta F quindi 10 Hz e mia mano mano aumenta nel caso delle altre finestre sicuramente non riuscirò a vedere la presenza del doppio tono magari me ne accorgo che ci sta qualcosa che non va perché noto che appunto diciamo lo spettro è un po' asimmetrico cioè vedo delle cose strane i campioni non sono simmetrici come prima e quindi questo mi deve dare un campanello di allarme e quindi quello che posso pensare di fare è ok allora se questo se ho un campanello d'allarme cosa devo fare devo cercare di migliorare la risoluzione e quindi per esempio acquisire più punti ovvero più periodi diciamo dei segnali in questione in particolare se porto questo numero di punti a 2000 e quindi poi di fatto il numero di periodi ha un numero addirittura intero 102 nel caso del segnale a frequenza fin2 che cosa ottengo ovviamente un netto miglioramento della risoluzione che migliora di 10 volte perché siamo arrivati a 0,5 hertz e quindi l'effetto sullo spettro qual è quello di innanzitutto diciamo con la rettangolare di riuscire a vedere chiaramente i due toni centrati uno a 50 hertz e un altro a 51 in più le ampiezze sono misurabili bene perché stiamo entrambi in condizioni di campionamento sincrono perché anche qui ho preso un numero intero di periodi anche nel caso di questa frequenza strana 51 hertz e quindi fondamentalmente riesco a misurare a discriminare correttamente i due toni cosa che non accade utilizzando la finestra di Henning di Blackman Harris per le quali purtroppo anche l'incremento di numero di punti e quindi del miglioramento del delta f non mi consente a causa della maggiore larghezza del loro lobo principale di discriminare correttamente i due toni e quindi di vedere che ce ne sono due che devo fare devo ulteriormente diciamo aumentare magari il numero di periodi quindi di fatto il numero di punti per fare in modo da ridurre ulteriormente il delta f per esempio al valore 0,1 hertz che diciamo mi consente anche nel caso delle finestre di Henning e di Blackman Harris di diciamo vedere chiaramente discriminati i due toni ci siamo su questo ragazzi mi date un feedback vocale più o meno sì professore che cos'è c'è qualcosa che non vi convince il più o meno è dovuto a qualche passaggio troppo veloce no in realtà professore secondo me sono stati tanti argomenti quindi bisogna soltanto rivederli un attimo ok comunque i concetti fondamentali sono sempre gli stessi cioè il fatto che fondamentalmente io c'ho che la risoluzione in frequenza è data da fs su etne quindi se a un certo punto c'ho un segnale sinusoidale puro e tutto sommato diciamo non ho mai problemi di discriminabilità di toni ma se c'ho segnali che sono diciamo combinazione di sinusodi ovvero c'ho più componenti spettrali nel mio spettro originario ovviamente là inizia poi ad avere significato maggiore il discorso della risoluzione perché la risoluzione in frequenza mi consentirà o meno di discriminare quei toni più aumento n meglio è la risoluzione e poiché diciamo la larghezza dei lobby principali delle singole finestre proporzionale a delta f cioè fs su n ovviamente potrebbe starci una situazione tipo questa in cui la finestra rettangolare è l'unica che mi consente di vedere discriminati i due toni perché c'ho una risoluzione di 0,5 hertz e invece una soluzione tipo questa in cui al costo di aumentare il numero di punti acquisiti ovviamente faccio migliorare il rapporto fs su n lo faccio diventare più piccolo e quindi anche con le altre finestre diciamo riesco a discriminare i due toni oltre che misurare bene la collocazione frequenziale e la loro ampiezza ok andiamo a vedere invece adesso l'effetto del campionamento asincrono in maniera un po' più dettagliata in particolare che problema porta sulle misure di ampiezza supponiamo ancora di avere un segnale sinusoidale puro in cui diciamo per qualche motivo prendo un numero di punti 110 che poi corrisponde a un numero di periodi che non è intero e quindi 5.5 periodi un po' come negli esempi che abbiamo visto all'inizio questa cosa qua mi porterebbe vabbè ovviamente ad una risoluzione in frequenza che non è intera 9.09 Hz ma non è questo il problema quello che importa è che appunto poi nel replicare i vari segmenti si creano quelle famose discontinuità che poi in frequenza mi portano qualche problema che problema mi portano in particolare mi portano il problema della dispersione spettrale ed in particolare il fatto che diciamo nel momento in cui vado a finestrare il segnale con le varie finestre ottengo in questo caso dei risultati molto differenti anche sulle ampiezze mentre quando stavamo in condizioni di campionamento sincrono abbiamo visto che indipendentemente dal tipo di finestra io riesco sempre a prelevare il massimo a ottenere il campione in corrispondenza del centro della finestra e quello corrisponde esattamente all'ampiezza del segnale qui invece vediamo una situazione molto diversa cioè per effetto del campionamento asincrono succede quella dispersione di campioni che vi dicevo prima che invece di capitare per esempio nel centro della finestra iniziano a capitare diciamo all'interno del lobo della finestra ma non in corrispondenza del centro così come i lobby secondari invece di essere campionati nei nulli vengono campionati magari anche addirittura nei massimi e allora vedete cosa succede innanzitutto concentriamo l'attenzione sul lobo principale lobo principale la finestra rettangolare vedete cosa succede che presenta questi due campioni diciamo tra altre cose nemmeno simmetrici rispetto al centro ed in più se vado a vedere quanto l'ampiezza di questi campioni si discosta dal valore effettivo noto una differenza significativa invece se vado sulla finestra di Enning che ha un lobo un po' più ampio grazie allo shape un po' più diciamo dolce nel dominio del tempo fa sì che anche diciamo c'è un recupero dell'ampiezza nel dominio della frequenza cioè cosa succede che il campione spettrale a parità diciamo di frequenza che sto considerando inizia a diventare meno distante diciamo dal valore effettivo e quindi commette un errore di stima sull'ampiezza un po' diciamo inferiore rispetto al caso della rettangolare fino ad arrivare alla situazione della Blackman Harris dove avendo ancora un lobo più piatto più largo diciamo e più piatto recupera ancora un altro pochino per cui l'errore diventa rispetto al valore effettivo ancora minore quindi a caso del campionamento asincrono ci sta poco da fare innanzitutto commetto un errore sulla stima dell'ampiezza del mio segnale in più diciamo avendo in decisione su quale delle frequenze indicare eventualmente come frequenza del segnale tendo anche a commettere diciamo un errore nella misura di frequenza vi faccio poi notare anche diciamo l'effetto dei lobby secondari vedete nel caso della rettangolare che come abbiamo visto prima è la peggiore finestra da un punto di vista di roll off e di altezza dei lobby secondari rispetto alle altre ci avete che per effetto del campionamento asincrono iniziano a sentirsi gli effetti anche dei lobby secondari magari non sono significativi in questo esempio in questo segnale però rispetto alle altre finestre notiamo che mentre le altre praticamente i lobby secondari sono quasi nulli per la finestra rettangolare i campioni corrispondenti ai lobby che capitano nei lobby secondari non sono in generale trascurabili vediamo un ultimo esempio dove appunto i lobby secondari rappresentano un fatto fastidioso ed è il caso per esempio di un segnale che nasconde praticamente una seconda componente a frequenza fn2 di ampiezza molto più bassa due ordini di grandezza più bassa rispetto alla componente sinusoidale a frequenza fn1 quindi ci avete di fatto una componente a 50 Hz ampiezza unitaria e una componente a 110 Hz che è ampiezza 0.01 ovviamente vedete nel tempo non si nota nemmeno la seconda componente ma d'altra parte è quello che vi abbiamo detto un paio di lezioni fa le analisi nel domine della frequenza spesso servono per vedere delle cose che nel domine del tempo non si riescono a vedere e allora supponiamo di fare l'analisi scusatemi in frequenza di questo segnale al solito con questa frequenza di campionamento e mettiamoci nella condizione peggiore possibile cioè di campionamento asincrono anche perché poi diciamo acquisiamo solo un numero abbastanza piccolo di punti e quindi anche di periodi allora che cosa succede? la risoluzione che ottengo vedete è sufficiente in generale a rilevare la distanza fra questi due toni direi di sì perché con questa risoluzione che è prossima a 9 Hz i due toni distano circa 60 Hz quindi voglio dire la risoluzione che ho è abbondante rispetto alle mie necessità per cui diciamo non non dovrei avere problemi però tutto sommato se vado a vedere lo spettro del segnale non riesco sempre a vedere la presenza del secondo tono in particolare nel caso della rettangolare perché nel caso della finestra rettangolare che è quella blu purtroppo che cosa succede? che nonostante sia la finestra che ha il lobo principale più stretto e quindi quella che mi dovrebbe garantire la migliore risoluzione in frequenza quello che accade è che per effetto negativo dei lobi secondari e quindi dello scarso roll off la seconda componente che dovrebbe capitare appunto a 110 Hz e quindi più o meno in corrispondenza di questa ascissa fondamentalmente viene nascosta viene sopraffatta dai lobi secondari del primo tono cioè quello centrato a 50 Hz questo per effetto negativo del roll off della finestra rettangolare tant'è che se io vado a finestrare il segnale invece con una ending piuttosto che con una black man Harris che invece hanno un roll off molto più rapido e hanno quindi anche un'attenuazione dei lobi secondari molto più significativa rispetto alla rettangolare noto chiaramente la presenza di un secondo tono in corrispondenza appunto di questo 110 Hz sebbene l'ampiezza di questo tono sia diciamo di due ordini di grandezza più basso rispetto all'ampiezza del tono principale quindi vedete diciamo come in questo caso magari uno pensava devo risolvere i due toni utilizzo la finestra rettangolare no perché la finestra rettangolare diciamo in condizioni di campionamento asincrono addirittura per effetto dei lobby secondari elevati soprattutto se la seconda componente del segnale ha un'ampiezza molto più bassa potrebbe essere mascherata sopraffatta dai lobby secondari della componente principale della componente ad ampiezza maggiore e quindi ecco perché in generale possiamo dire con questo concludiamo che generalmente non esiste una finestra ottima per tutte le applicazioni la scelta dipende sempre dalle caratteristiche del segnale da analizzare in relazione anche alla possibilità offerta dello strumento di analisi e delle quantità da dover misurare quindi se devo misurare ampiezza se devo misurare frequenza e così via e in questa tabellina sono suggerite fondamentalmente delle finestre che si potrebbero utilizzare a seconda delle caratteristiche del segnale di analizzare e di quello che uno diciamo dovrebbe misurare vi faccio notare che nel caso diciamo dov'è che è suggerita di utilizzare la finestra rettangolare soprattutto nei segnali diciamo magari nei rumori a banda larga come il rumore bianco in modo tale da non modificare la distribuzione diciamo con uno shape particolare nel tempo oppure quando ci avete componenti spettrali ravvicinate ma che però sono di ampiezza abbastanza simili fra loro altrimenti se ci troviamo nella situazione che abbiamo visto nell'esempio precedente non va bene anzi dobbiamo utilizzare altre finestre così come la rettangolare sicuramente abbiamo già detto all'inizio nel caso dei segnali autofinestranti infine voglio solo giusto dirvi che l'implementazione poi reale fisica di un FFT analyzer spesso passa per l'implementazione di un oscilloscopio numerico cioè nel senso che spesso l'FFT analyzer non è altro che l'oscilloscopio numerico che avete studiato a lezione in cui però è implementato a livello algoritmico la funzione di FFT e quindi diciamo consente diciamo di fatto di effettuare anche l'analisi in frequenza l'unica differenza che avreste in quel caso in cui l'FFT analyzer di fatto è un oscilloscopio numerico dotato di capacità di FFT rispetto allo schema blocchi che abbiamo visto è il blocco di condizionamento nel senso che nell'oscilloscopio numerico come tutti sapete nel blocco di condizionamento iniziale non c'è un filtro anti-aliasing perché altrimenti non si potrebbe implementare il campionamento in tempo equivalente quindi diciamo in quel caso attenzione a maggior ragione alla possibilità che comunque nel modificare diciamo nella scelta della frequenza di campionamento poi si possa commettere o meno aliasing ma questo poi lo capiremo un po' meglio anche durante le esercitazioni sull'FFT analyzer con questo direi diciamo di concludere la lezione e a questo punto ci vediamo la prossima settimana con le rimanenti lezioni buona prosecuzione di giornata arrivederci arrivederci arrivederci